Lo sport, torniamo a parlare di sport e torna a trovarci anche dopo il ride massacrante ma soprattutto angosciante per l'enorme anti-covid l'amico Jacopo Ceruti, pilota comasco che per la prima volta quest'anno ha fatto la Dakar non in moto ma in auto e allora ce la facciamo raccontare da lui intanto ciao Jacopo, buon pomeriggio Ciao a tutti, buonasera Buonasera a te, grazie di essere qua con noi Jacopo Ceruti, pilota comasco, siamo alla Dakar numero 6 numero 6, 5 in moto 5 in moto, una in auto e sono alla quarta medaglia adesso la facciamo vedere meglio, mostrala a questa camera, caro Jacopo sono alla quarta medaglia questa è la medaglia che ti danno quando finisci una massacrante Dakar solo se finisci ne hai portate a casa 4? sì perché due volte ti sei ritirato due mi sono ritirato e quattro l'ho finita e allora la domanda più scontata intanto amici ecco, grazie della vostra simpatia vedo che tanti ti salutano se volete potete fare anche le domande togliervi anche qualche curiosità lo faremo anche noi se è meglio in moto o in auto non so, chiederlo a un pilota è difficile, come dire quale preferisci, figlio o il primo figlio o il secondo figlio? credo sia difficile o sbaglio o comunque la moto rimane il tuo primo amore no, beh, ti do ragione che comunque una Dakar è sempre uno spettacolo è un'avventura pazzesca quindi è comunque sempre bello andarci e non me ne sono pentito assolutamente andare in auto dal punto di vista proprio di... ecco, quest'anno ho fatto il navigatore tra l'altro sì, sì, ho fatto il copilota in auto e quindi è diverso una Dakar molto diversa perché in moto, visto che sei da solo è una soddisfazione chiaramente più grossa finirla però ha anche un impegno molto più grosso sia fisicamente che soprattutto i mesi prima per trovare il budget per far combaciare tutte le cose preparare perfettamente tutta l'attrezzatura l'abbigliamento tutte le gomme insomma, avere tutto perfetto e per come la facevo io comunque da pilota privato e invece mi sono trovato in auto avere chiaramente un po' meno emozioni dal punto di vista del risultato della performance però ho molta più tranquillità sia diciamo nel periodo precedente sia proprio durante la gara perché poi oltretutto è anche molto più sicura a farla in auto a livello proprio di incidenti ah ecco, questa è una cosa in effetti che non ci avevo pensato tu dici che sì beh, in moto forse in effetti dune incognite varie è un po' più pericolosa sì, in moto sicuramente è la più pericolosa e invece in auto c'è il suo fascino perché credo che come hai detto tu no Jacopo arrivare sul traguardo finale sul podio dove quest'anno ti hanno dato appunto quella medaglia con la moto vuol dire insomma è una sensazione sì perché appunto è molto molto difficile farla in moto è molto pericolosa ci sono tantissime cose che possono andare storte e quindi la soddisfazione fine in moto è grandissima però devo dire che anche in auto è stato bello stimolante perché comunque l'auto è abbastanza delicata quindi comunque si può facilmente bucare ci si insabbia se si prendono rocce grosse a una certa velocità si rischiano di rompere dei semiassi che poi vanno cambiati quindi non è pericolosa nel senso fisico a parte è chiaro se c'è qualche duna che si salta giù si fa un errore grosso chiaro che lì si rischia di infortunarsi anche in auto però comunque sono tante cose che possono andare storte per cui raggiungere insomma raggiungere il podio finale non è non è scontato due settimane circa no di più o meno sono due settimane belle belle intense adesso ci facciamo raccontare da Jacopo anche come le ha vissute perché quest'anno con il covid non è stata mi diceva prima Jacopo la cosa più semplice del mondo con parecchia angoscia anche prima di partire intanto i saluti di tanti amici e tifosi ormai perché sei diventato insomma una sorta di punto di riferimento per molti sei Dakar voglio dire non credo che molti se la possono mettere nel loro palmarès ciao Loretta buonasera complimenti Jacopo complimenti da Lidia da Marco da Clara da Cinzia da Antonia Jacopo sei il top bravissimo e Jacopo è diventato ormai come dicevo ciao Antonia ciao anche a Cinzia buonasera a voi dicevo si è diventato un vero punto di riferimento per molti insomma sei Dakar con tutti i rischi con tutte queste fatiche non sono cosa di tutti i giorni veniamo al pre allora prima di partire Dakar si parte il primo di gennaio tu sei partito prima ovviamente e hai dovuto fare un po' di esami giusto? perché i tamponi il covid come è andata Jacopo? facci capire è stato un cinema perché in quel periodo c'erano tantissimi positivi e quindi il primo scoglio è stato riuscire ad essere negativi è perché mi diceva prima io ero lì che frenevo hai dovuto fare i tamponi sì sì abbiamo dovuto fare i tamponi prima di partire qui quindi prima del volo e c'erano tantissimi positivi per cui già lì ho cercato di evitare contatti però non si sa mai quindi c'è gente che dice sto in casa e poi l'ho preso per cui ero un po' preoccupato per quello poi una volta arrivato all'ultimo prima del volo aereo l'esito negativo ok andiamo giù ma poi dopo l'esito negativo è arrivato mi dicevi due ore prima che tu ti imbarcassi sì sì due ore prima dell'imbarco quindi notte quasi insonne e siamo andati in Arabia ci siamo fermati a Jedda dove c'era la partenza e lì l'organizzazione ci ha fatto un secondo tampone e abbiamo iniziato a sentire che a noi non arrivava ancora l'esito però iniziavamo a sentire di piloti positivi che si sarebbero dovuti fare dieci giorni di quarantena in hotel per cui insomma panico totale immagino soprattutto perché comunque è una gara che già di per sé è stressante da morire perché è chiaro è una delle gare più dure al mondo anzi penso sicuramente la gara più dura al mondo per quanto riguarda il motorsport per cui non è che si va giù rilassati come quando si va a bere il mojito in spiaggia per cui già comunque c'è un po' di tensione per la gara sommata questa cosa qui anche perché la preparazione di sponsor i soldi che uno investe per farla da cara Jacopo rischiava di saltare un po' tutto sì sì infatti mi sono messo nei panni della mia pilota che è stata ho corso come copilota per una ragazza araba dell'Arabia Saudita e mettendomi nei suoi panni insomma se fossi chiaro che non era colpa mia se fosse il risultato positivo però sarebbe stato veramente veramente brutto poi alla fine è andato tutto bene meno male siamo partiti prologo ce l'avete fatto e poi 12 tappe veramente pazzesche ti chiede Loretta intanto no ti saluta anche Cinzia dice che il figlio ti segue sempre perché sei veramente un punto di riferimento un saluto anche da Luigi e da Antonia e Loretta dice ma Jacopo c'è più panico per il deserto per le dune o per il covid no bella sicuramente per le dune il covid ha fatto panico all'inizio ma perché non avremmo fatto la gara perché in quel caso non ti avrebbero fatto partire no perché ci saremmo fatti 10 giorni a spese nostre in hotel lì e quello faceva paura più che il covid in sé invece le dune fanno paura perché sono dei muri enormi di sabbia che o sali o sali e quindi quelle sì che fanno paura davvero va bene e in quale parlavi in inglese con la tua copilota in inglese esatto lei è una ragazza della rabbia giusto e come come vi siete trovati come siete riusciti a mettervi assieme e come ti ha chiesto di fare il copilota ma allora è nato tutto che io ho preso contatto con il team per cui ha corso lei che si chiama South Racing che è il team più grosso della Dakar come personale come numero di mezzi abbiamo corso una categoria side by side che sono questi eh esatto sono tipo dei baggy con il vetro davanti alcuni vanno anche senza però ne l'abbiamo messo e senza finestrini quindi abbastanza aperti finestrini laterali non ci sono davanti però c'è il vetro davanti sì c'è il vetro con la sabbia con il vento ma c'è qualcuno che va senza perché si può temerario però sì però col freddo è meglio quando fa caldo e quando c'è la polvere perché esce perché si prende aria e soprattutto la polvere che entra esce subito però quando fa freddo è molto meglio avere il vetro comunque anche per sicurezza quando ci passavano alcune volte altri camion o altre auto che magari sollevano un sasso se non hai il vetro comunque te lo trovi in braccio il sasso quindi non è non è bello e poi Jacopo quest'anno da copilota ha fatto anche il meccanico abbiamo visto delle foto delle storie che hai messo su facebook Jacopo pazzesche dove insomma sostanzialmente avete dovuto fare smontare e dispare in mezzo al deserto ti sei dovuto arrangiare sì per forza è una roba diciamo un po' più brutta della macchina che appunto la moto è molto più molto più resistente da questo punto di vista quindi è difficile per dire anche se saltiamo via una duna di 5 metri purtroppo lui in moto ti hai dovuto arrendere una volta per un brutto cioè una caduta avevi preso un sasso in pieno chiaro quello sì però è molto più è molto più facile avere problemi meccanici con la macchina perché ha molte più pesa molto di più quindi comunque sugli ostacoli pesa di più e per cui fa magari più danno e poi semi assi tutte queste cose qua la cinghia sono cose che si possono rompere facilmente poi noi in moto usiamo le mousse che sono come dei salsicciotti pieni nella gomma che a parte che ho avuto quella sfortuna quell'anno che l'ho rotta ma normalmente al 99% delle volte funziona sempre invece in auto è stato sfigatissimo quell'anno che hanno avuto la massima sfortuna pazzesca per fortuna non ti sei fatto male no invece in macchina si usa le gomme normali piene di aria quindi quando la macchina si mette di traverso ci sono dei sassi taglienti si taglia spesso la spalla della gomma per cui bisogna scendere cambiarle ne abbiamo due di scorta e poi dopo le due di scorta basta non ce n'è più quindi si rilenta cambiare la gomma sulla strada che va da Como a Montorfano per dire una è un conto cambiarla nel deserto è un altro conto Jacopo si infatti abbiamo una abbiamo una specie di palettina di piattello che si usa quando buchiamo in una zona sabbiosa che magari ci sono dei sassi nascosti nella sabbia e lo mettiamo sotto il creek per fare appunto più superficie esatto e riuscire a alzare la macchina anche nella sabbia ed è la stessa cosa che uso quando ci insabbiavamo quindi usavo questo creek con sotto questa specie di padella per alzare la macchina e così avrei spalato più in fretta e riuscivo a infilare sotto quando si riusciva a alzare un po' la ruota riuscivo a infilare sotto la slitta per uscire detto così cari amici e amiche che ci stanno ascoltando sono molti vedo interessati alla storia di Jacopo sembra semplice quando sei lì e che temperatura faceva durante il giorno Jacopo? ma la prima settimana molto freddo freddo? invece la seconda parecchio caldo sì non caldo tropicale ma un caldo cioè un sbalzo termico importante sì 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 la seconda settimana diciamo che la prima settimana spalare quasi mi piaceva perché mi scaldavo un po' invece la seconda tornavo in macchina che ero bello sudata quando spalavo mostra la 2 che è quella lì anche la medaglia che ce l'hanno chiesto di vederla da vicino esatto guardate ecco questa perfetto ve la sta facendo vedere Jacopo ho scritto proprio il simbolo della Dakar Jacopo scusa curiosità la danno a tutti uguale la medaglia? sì sì è numerata ce ne sono questa qua la 371 su 450 numerata per tutti ma poi chiaramente non tutti la finiscono però sì uguale per tutti uguale per tutti proprio esattamente beh insomma una bella esperienza anche quella di quest'anno caro Jacopo un saluto anche da Fabio ah sì l'amico Fabio eccolo qua ciao Fabio tante invidia se hai bisogno di un jolly per la Dakar ci sono un saluto anche da Corrado e da Clara buonasera a voi sì beh certo effettivamente è stata una esperienza tutta da raccontare vissuta avete sentito con l'incubo covid perché se in effetti quando sei partito c'era proprio il boom dei contagi bastava un niente trovarti positivo e la Dakar poteva finire lì con il rischio però di star lì a far lì la quarantena che non era però poi alla fine siamo riusciti a partire quindi meno male poi abbiamo dimenticato diciamo che i chilometri ci hanno fatto dimenticare in fretta e abbiamo avuto altri problemi a cui pensare quanti chilometri in tutto Jacopo? erano mi pare 8.002 8.000 8.200 sono diventati 8.004 perché abbiamo hanno spostato un bivacco che era allagato quindi l'abbiamo fatto un pochettino in più 8.400 chilometri in 12 giorni insomma non è cosa di tutti i giorni ciao ancora anche da Corrado è un caro tanti complimenti per essere riuscito a chiudere la Dakar che poi alla fine è già un risultato straordinario quello di arrivare poi si la guardi la classifica sicuramente la guardate voi la classifica però Jacopo il riuscire a portare la moto o l'auto in questo caso a casa vale già tanto si alla fine è l'obiettivo sempre primario ma poi oltretutto la cosa che non si pensa è che quando in realtà si va male si hanno problemi che si va male in classifica è ancora più difficile finirla perché la motivazione magari cala magari uno si fa delle aspettative è chiaro che se uno si parte per dire voglio finirla e basta e poi si trova nei primi dieci è chiaro che non vede l'ora di partire di andare se uno inizia a avere dei problemi e buca perde due ore un giorno l'altro giorno cappotta e rompe il vetro così inizia a avere problemi è dura portarla al traguardo perché i giorni sono lunghi non sono corti tanta passione bravo Jacopo da Corrado ecco c'è un altro amico Luca che scrive sulla messaggistica di Messenger ma i momenti di sconforto Jacopo come si superano non lo so come si superano i momenti di sconforto credo ci sono sconforto comunque quelli che tu hai detto c'è anche la foratura che ti impiega molto tempo per cambiare la gomma il ribaltamento perché nelle dune succede può succedere assolutamente l'importante è prendersi prendere quello che viene diciamo che io penso sempre che quello che posso controllare lo cerco di controllare quello che non posso controllare non lo controllo quindi se riesco a vedere un pericolo che quindi posso avvisare la pilota e faccio tutto il possibile nelle mie mani per evitare problemi lo faccio quello che non posso evitare non lo faccio e se c'è un problema è successo e basta si guarda avanti ecco la curiosità ecco e anche di un altro ascoltatore dice sì in effetti ma il copilota in una rally cioè in una manifestazione come la Dakar che ruolo ha cioè leggi le note gli dici attenzione guarda che c'è una duna sì dipende dipende un po' anche dall'esperienza del pilota la mia ad esempio aveva ben poca esperienza di gare era brava a guidare ma non aveva esperienza di gare quindi presente l'80% della Dakar la facevo io perché dicevo le direzioni dove andare tramite la mia esperienza ti seguiva pedissequamente ti ha sempre non sempre però spesso sì spesso sì o comunque si fidava perché alla fine avevo molta più esperienza però il copilota fa tutto dal dire l'orario di partenza dove è l'uscita del bivacco prendere la tabella tenere i tempi fai tutto tu fai tutto il navigatore tutti i tempi di entrata in speciale dove è la speciale e poi soprattutto in speciale con il roadbook il copilota guarda e naviga quindi io in inglese devo dirle fra 200 metri vai a sinistra prendi quella direzione più a destra più a sinistra così va bene poi non abbiamo preso magari il waypoint quindi ero io che dicevo dobbiamo andare magari un 500 metri più a 90 gradi a sinistra vedere se prendiamo questo punto il waypoint quelli diciamo di passaggio ah ok ok e alla fine ero io che facevo tutto se bucavamo scendevo io se cioè lei guidava e basta lei sì guidava e basta che poi per carità è chiaro che è difficile anche quello non è facile però non è che fa tutto la rifaresti da pilota 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 di auto la rifaresti o a parità a parità di condizioni la macchina e la moto qua ti mettono tutte cosa scegli? no a parità di condizioni scelgo la moto la moto immagino perché perché la moto fai tutte e due comunque il godimento è doppio però invece mi piace in auto perché a me piace navigare comunque la navigazione da Dakar è sempre molto difficile insomma da come ci hai raccontato Jacopo è stato veramente un impegno molto molto stressante e faticoso cioè hai praticamente guidato tu sostanzialmente anche se non fisicamente la macchina fino alla fine sì perché comunque anche proprio dire le traiettorie migliori nelle dune dirle magari la velocità cui prende certe dune dove prenderle e poi comunque tenerle direzioni di dove andare perché tanti si sono persi anche per mezz'ora per cui non era facile neanche trovare la strada giusta e quella è una roba molto stressante però è una cosa che dà molta soddisfazione secondo me guidare l'auto si perde questa un po' questo fascino di navigazione chiaro per cui non so se mi piacerebbe fare una una da cara solo guidando probabilmente sì però saluti anche da Simona da Clara dice sono una tua fans da Chiara ciao da Giovanni anche Giovanni Indorato ciao Giovanni un caro saluto a te un amico un saluto al mio amico Jacopo e Corrado che ti fa tanti complimenti ma anche Mimma bravo sì molto difficile caro Corrado noi l'abbiamo cercato di farcelo raccontare ma è difficile solo immaginare il perché poi c'è il freddo il caldo ecco l'orientamento quanto è importante ci chiede il nostro quello che dicevo prima comunque è molto importante perché quando sono gli spazi così aperti basta un attimo sbagliare di pochi gradi la direzione e si sbaglia di magari 500 metri non si prende appunto il waypoint questi punti di passaggio ma sono obbligatori devi passarsi per forza sono obbligatori nel senso che se non prendi una penalità ma c'è una penalità solamente che delle volte magari il punto di passaggio è per dire in un canyon che bisogna seguire magari all'ingresso non so di un canyon o di un fiume in secca e quindi se non lo prendi non sai dove andare per cui non è che dici non lo prendo e vado avanti ok ma dove vai se non lo prendi com'è far piovere dentro l'auto eh sì vabbè insomma c'è un po' di tutto insomma i nostri amici che ti hanno subito un grande affetto tanti saluti senti andiamo a chiudere la nostra puntata con Jacopo due cose ancora poi ti lascio allora la tua fidanzata cosa ti ha detto che eri in macchina con ho visto che anche tu hai scherzato un po' lei era molto più contenta in realtà in macchina piuttosto che in moto perché quello che dicevamo però c'era una ragazza è anche una bella ragazza sì prima ha voluto vedere le foto esatto esatto però però comunque ciao Betty salutiamo la tua fidanzata Betty che ci segue spesso quindi un caro saluto anche lei senti l'idea di portarla a farla a Dakar no a dici lei guida no o tu guidi e lei fa la navigatrice oppure ci vorrebbe un bel po' d'esperienza Betty io ce l'ho messa tutta magari con altre mansioni io ce l'ho messa tutta non so se vediamo magari guidando che comunque guida bene guida bene eh va bene allora dai cambia pilota il prossimo anno un saluto anche da Alessandra ciao Jacopo e da Giovanni Corrado sì tanti 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 cari amici per Jacopo Ceruti e c'è anche Elisabetta che ci scrive ciao ciao Betty un saluto cara io ho detto ci ho messo un po' del mio per farti partecipare chissà il prossimo anno sarebbe fantastico la vostra coppia così ben collaudata a fare anche la Dakar va bene ciao Betty davvero un caro saluto vorrei tantissimo dice quindi cavoli tuoi ci proviamo sono cavoli tuoi adesso no per chiudere Jacopo prima di poi riospitarti tra qualche mese ci dici i programmi dopo questa bella meravigliosa Dakar adesso sono tornato in moto quindi finalmente mi riconcentro sulle due ruote correrò ancora al campionato italiano motorelli sempre con l'usquarna del team solaris sempre nel motoclub intimiano natale noseda ok e niente voglio riconfermarmi ancora campione poi farò ancora un po' di gare di enduro di italiano magari qualche gara di mondiale enduro e poi vediamo vorrei fare ancora una garetto due nel deserto in moto per non perdere l'abitudine e poi vediamo insomma per la prossima Dakar in base un po' al budget a tante cose da definire poverina dai va bene ciao allora anche a sindy con un caro saluto grazie sindy un saluto anche a te salutiamo tutti gli amici che ci hanno seguito in questa bellissima diretta con Jacopo Ceruti il pilota per eccellenza ormai Comasco sei Dakar disputate quattro al termine tra cui quella di a quest'anno in auto Jacopo grazie davvero mi ha fatto un grande piacere che sei venuto a raccontarci un po' anche il dietro le quinte in bocca al lupo per la stagione ci vediamo tra qualche mese certo allenati crepi il lupo mi alleno sicuramente che mi piace esattamente ciao Jacopo ciao a tutti grazie grazie